Perché questo incontro oggi a Vallo della Lucania? Perché Aldo Moro? Per testimoniare un lavoro fatto in quasi due anni di lavoro nella Commissione parlamentare, un lavoro importantissimo che finalmente dopo tanti anni sta portando alla luce dei fatti di straordinaria rilevanza e importanza. Questo ovviamente innanzitutto grazie a chi ci ha lavorato e sta attraversando il nostro paese con decine e decine di iniziative, che è l'On. Leggetto Grassi, il nostro Vicepresidente del gruppo parlamentare. Il Partito Democratico ha fatto una scelta di fondo, fare della ricerca della verità sul fatto credo più importante e eclatante che ha segnato la storia della nostra Repubblica, uno dei motivi fondamentali anche per costruire un futuro che sia libero dalle ombre del passato. Noi lavoriamo in questa direzione proprio perché vogliamo anche per questa ragione costruire un'Italia migliore e credo che lo sforzo è tutto lo sforzo del gruppo parlamentare del Partito Democratico. In questo caso parliamo di Aldo Moro, ma la verità sempre e comunque non è il caso? La verità sempre fino alla fine, quindi il lavoro della Commissione va esattamente in questa direzione, è il lavoro che sta facendo l'On. Leggetto Grassi e anche quello di raccontare in giro per l'Italia quello che la Commissione sta producendo proprio perché questa verità deve essere un patrimonio di tutti, un patrimonio del Paese. Cosa ci dice il lavoro della Commissione? Quale verità ci svela oggi? In estrema sintesi che in Via Fani accanto alle Brigate Rosse c'erano soggetti terzi, la banda della Magliana e pezzi dei servizi segreti, che l'omicidio Moro era funzionale agli USA e all'URSS, che il Mossad offrì armi e soldi alle Brigate Rosse, che il nostro Stato sapeva prima che Moro sarebbe stato rapito, che non fece nulla per proteggerlo, che ci sono complicazioni e implicazioni da parte di pezzi della magistratura, da polizia, dei carabinieri, dei servizi segreti e che probabilmente materialmente non sono state le Brigate Rosse ad uccidere Moro. Allora a questo punto la domanda insomma arriva, chi è stato allora, chi c'è dietro questa tristissima pagina della storia d'Italia? Ma lei vuole arrivare alla conclusione subito, ci vogliono i preliminari, bisogna preparare, non siamo in grado di dire chi ha sparato. Ma perché ecco, secondo lei? Perché è più facile, quello l'abbiamo accertato, perché Moro voleva la democrazia compiuta e Gelli, la P2, non la volevano, perché Moro voleva che ci fossero due partiti europei che si alternassero al governo dell'Italia. Questo dava fastidio agli Stati Uniti, perché i comunisti avrebbero avuto accesso ai segreti di Stato, e dava fastidio ai sovietici perché il partito comunista italiano sarebbe stato l'unico ad andare a governo senza i cari armati. E quindi il perché lo abbiamo certo. Lei pensi un po' che Russia e Stati Uniti, che si combattevano in tutto il mondo, Vietnam e tutto il resto del mondo, sul caso Moro condividono un appartamento a Roma, Viale Giulio Cesare 47, dove vengono arrestati i fidanzati delle Brigate Rosse, cioè Valerio Morucci e Adriana Faranda, e lì dentro c'è il capo del KGB italiano, il professor Conforto, e c'è padre Morlion, che è un sacerdote, ma è il capo degli agenti della CIA. In più ci sono le tracce della Banca Vaticana di Marcinkus. Quindi Stati Uniti e Russia, che si combattono nel mondo, sono uniti contro Moro. Quindi non è una storia solo italiana? No, non è una storia solo italiana e non è soltanto la storia di Moro, perché nella storia di Moro ci sta la Camorra, ci sta l'Andrangheta, la mafia, la banda della Magliana, pezzi dello Stato. E la storia di Moro non è quella dei 55 giorni, ma inizia molto prima e non è ancora finita. C'è un dato che quelli che lo hanno ucciso non se ne ricorda più nessuno. Moro, grazie anche, come diceva Simone, al PD e all'iniziativa nostra, oggi è un rifiorire di iniziative. Lei pensi che io sono qua a Vallo della Lucania, due anni, 293 puntate. E c'è un calendario che finisce nel 2017. Perché? Perché la gente vuole verità, giustizia, ma vuole anche sapere chi e perché ha ucciso Aldo Moro. È un'altra Italia oggi? È un'altra Italia. Un'altra Stato? È un'Italia che cerca di ripurirsi delle ferite del passato, ma proprio perché vuole fare questo, lo vuole fare fino in fondo per riformare seriamente questo Paese. È un'Italia che cerca la verità fino in fondo, ripeto, sulla vicenda più inquietante, ma anche la più importante e difficile della storia della nostra Repubblica. È un atto anche di coraggio che fa il Partito Democratico e che non fanno altri partiti. Raccontare una storia che può anche appartenere a un pezzo della tradizione politica che ha ereditato il Partito Democratico è un atto di coraggio. Ma è un atto che parla, come diceva anche l'On. Grassi, un linguaggio vicino al popolo. Racconta alla gente quello che stiamo facendo e soprattutto cerca di andare fino in fondo per costruire un'Italia diversa e migliore nel futuro, dove non dovranno accadere più le cose che sono accadute nel passato, dove non ci dovrà essere un pezzo di Stato che sta contro un altro pezzo di Stato, dove non ci dovrà essere un pezzo di Stato che occulta altatamente la verità. In Italia è accaduto anche questo. Era un momento particolare, era un momento difficile, ma un partito di governo che vuole costruire il futuro lo fa sapendo anche che deve lasciare per il futuro dei propri figli una condizione molto diversa da quella che forse abbiamo ereditato da questo punto di vista. Quando lo Stato nascondeva troppe cose e raccontava molto poco alla gente. Noi stiamo cercando di fare il contrario e stiamo cercando di scrivere una pagina di verità anche perché è giusto pure per lui, credo per il più grande statistico, tra i più grandi statisti, io penso insieme al Cilio di Gasperi che questo Paese ha avuto. E come secondo lei, in chiusura, la verità l'Italia la vuole sapere, gli italiani la vogliono sapere o può far paura? No, guardi, l'ha detto lei, l'ha detto bene, gli italiani vogliono saperlo. Chi non la vuole sapere è un pezzo del potere, non il potere politico soltanto, il potere giornalista, il potere economico, il potere culturale. Non è che non vuole sapere la verità, la offusca, perché in quella verità ci sono, per esempio, alcuni autorevoli giornalisti che sono parte di quella verità ma che noi non abbiamo mai scoperto. Grazie.